Buonasera, tra poco nuova edizione del nostro giornale, ma prima la sigla e i titoli. Arriva la determina che ufficializza l'incarico del nuovo primario del pronto soccorso di Cosenza. Si insedierà il 20 giugno. Prima dell'estate dovrebbero finire anche i lavori del nuovo pronto soccorso. Intanto i problemi non mancano ad iniziare dalla carenza del personale. Chiedono al governo regionale di intervenire. Siamo vincitori di concorso perché non scorra la gradatoria davanti alla cittadella Aglios che hanno lavorato durante il Covid. La vicenda del planetario è un caso. Le parole del consigliere turco contro chiuto. La minoranza insorge. Estigazione alla violenza. Appello a Caruso. Intervenga. La struttura abbandonata dell'ex albergo San Grilà di Fuscaldo è un pericolo costante. Tre ragazze sono state colpite da un pornicione che si è staccato dalla parete. Una delle tre è ricoverata in ospedale a Cosenza, in gravi condizioni. Inaugurata la nuova sede per i pazienti e loro familiari affetti da gravi malattie del sangue. Casa Amelia, così si chiama la struttura, gestita dall'AILA. Iniziativa della Regione in favore degli scrittori calabresi che entreranno a far parte del programma di studio negli istituti scolastici della Regione. Ancora buonasera dalla redazione del TGTN. Dunque in apertura di questa edizione del nostro giornale torniamo ad occuparci del pronto soccorso di Cosenza. Intanto c'è la determina che ufficializza l'incarico del nuovo primario del pronto soccorso. Si insedierà il prossimo 20 giugno, prima dell'estate, inoltre dovrebbero anche terminare i lavori per il nuovo pronto soccorso. Ma intanto i problemi non mancano ad iniziare dalla mancanza, dalla carenza di personale. Inizia una nuova fase per il pronto soccorso di Cosenza? Beh, si spera. Intanto il 20 giugno si insedierà il nuovo primario, Lorenzo Domenico Urso, designato dall'azienda ospedaliera dopo le dimissioni il 9 aprile scorso di Pietro Scrivano. Adesso ce la determina che ufficializza l'incarico per il nuovo primario che nel 2022 aveva risposto all'avviso pubblico arrivando secondo in graduatoria. Urso arriverà poco prima dell'estate, periodo in cui dovrebbero essere ultimati anche i lavori per la realizzazione del nuovo pronto soccorso, che secondo quanto annunciato dal commissario dell'azienda, Vitaliano De Salazar, avrà spazi più ampi e risponderà meglio alle esigenze di cura dei pazienti. Con la previsione di tre differenti accessi rimodulati sulla base del codice di gravità del paziente, ci saranno tra l'altro sei ambulatori, sala TAC e una sala radiologica polifunzionale. Intanto però i problemi non mancano, le attese per i pazienti sono a volte interminabili e manca personale. I medici cubani sono stati un apporto importante, ma non bastano. Lo stesso De Salazar non nasconde i problemi, ma, sottolinea, si continua a lavorare per superare le criticità. E questo è quello che da anni aspettano i cittadini. Protesta dinanzi la cittadella regionale di Catanzaro degli Os, presente al sit-in promosso dall'organizzazione sindacale Sicobas, una nutrita rappresentanza dei circa 500 edoni al concorso per le necessarie e urgenti assunzioni a tempo indeterminato nella sanità calabrese. Abbiamo contezza di molti lavoratori os che sono in aspettativa, infortunio, gravidanza, lunghe malattie, quindi è giusto che vengano sostituiti. Servono operatori sociosanitari per sopperire le carenze di personale, quello che chiedono lavoratori e sindacati che oggi davanti la cittadella regionale a Catanzaro hanno organizzato un sit-in di protesta per porre la questione all'attenzione del commissario alla sanità regionale. Le nuove figure previste a bando non sono state mai reclutate a tempo determinato. Già in passato avevamo denunciato l'utilizzo, diciamo, in modo sbagliato delle gradatori a tempo determinato. Adesso siamo qui a chiedere che questa graduatoria venga utilizzata almeno per le sostituzioni del personale os dell'azienda Dulbecco, che comprende ormai tre plessi, quindi il Policlinico Germaneto, l'ospedale Pugliese e il Presidio del Ciaccio. Graduatoria dimenticata recitano gli slogan perché gli operatori si sentono abbandonati. È una graduatoria nata nel 2022, era nata all'inizio come un bando Covid per nove operatori sociosanitari. Nel bando c'erano comprese altre figure che sono state assunte in quel tempo che ancora eravamo in epoca Covid. Adesso ci ritroviamo con questa graduatoria per gli osso riformulata, poi è stato cambiato l'avviso, però non è stata più utilizzata. Un gruppo di 15 dipendenti della società proprietaria della centrale Biomasse di Cutro nel Crotonese è salito su una ciminiera alta 52 metri dell'impianto rivendicando il pagamento degli stipendi che non ricevono dallo scorso mese di febbraio. La centrale era stata sequestrata nell'ottobre del 2022 dalla procura antimafia di Catanzaro nell'ambito di un'inchiesta sui presunti illeciti ambientali. Il sequestro è stato revocato poi nelle scorse settimane ma l'impianto ancora non ha ripreso l'attività. I lavoratori protestano anche per il mancato riconoscimento della cassa integrazione da parte dell'Inps che ha motivato la decisione con la mancanza dei criteri per il riconoscimento in assenza della dichiarazione dello stato di crisi. E' polemica politica dopo le parole del consigliere comunale di Cosenza Turco nei confronti dell'ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Il centrodestra insorge e denuncia e istigazione alla violenza. 60.000 schiaffoni bisognerebbe dare a Mario Occhiuto per il male che ha fatto a Cosenza l'affermazione forte e divisiva del consigliere comunale di Cosenza Francesco Turco in un comunicato arrivato nella tarda serata di ieri in redazione Noi siamo per la non violenza precisa ma le parole si sanno significato in politica di più Così scatta la polemica. La risposta è arrivata a stretto giro di posta firmata da Michele Arnoni di Fratelli d'Italia il quale sostiene che non si possono utilizzare simili termini la violenza inaudita nei confronti di un avversario politico e invita il sindaco di Cosenza Franz Caruso a prendere le distanze da quanto affermato da Turco un caso nato ieri dopo la conferenza stampa della minoranza al planetario a cui aveva risposto subito il primo cittadino nel pomeriggio la lettera dell'ex sindaco della città Mario Occhiuto sui social la missiva indirizzata a Franz Caruso in cui Occhiuto ha evidenziato quanto fatto nei mandati da sindaco tra cui il completamento e la valorizzazione di opere quali il planetario attività spiegato interrotta dalla pandemia abbiamo lasciato a precisato nella missiva un finanziamento di 60.000 euro per la gestione ed espletato una gara assicurando che la nuova amministrazione potesse riprendere l'attività senza interruzione finanziamento che ha contestato Turco e che di fatto ha innescato la gherella una ragazza di Belvedere ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza la 17enne è stata vittima di uno sfortunato incidente colpita da un grosso pezzo di cemento staccatosi da una parete dell'hotel Sangrila a Fuscaldo ferita ad una gamba anche una sua amica sentiamo è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita la ragazza colpita al capo da un grosso blocco di cemento staccatosi da una parete dell'hotel Sangrila di Fuscaldo la struttura abbandonata e ormai degradata si trova in via Messinette nel centro del Tireno Cosentino la giovane stava passeggiando sul marciapiede insieme a due amiche pare per recarsi a una festa di compleanno quando all'improvviso il cornicione si è staccato piombando a terra e ferendola gravemente anche una delle due amiche è stata colpita ma una gamba la ragazza ferita alla testa è stata soccorsa e trasportata dal lei di soccorso che si è alzato in volo dalla spiaggia antistante e la struttura alberghiera raggiungendo l'ospedale di Cosenza mentre la sua amica è in ambulanza presso l'ospedale di Paola sotto shock la terza ragazza rimasta fortunatamente illesa i vigili del fuoco hanno delimitato l'area dove si è verificato il distacco del cornicione la struttura, un tempo tra le più importanti del Tireno Cosentino è chiusa dal 2007 nonostante sia stata oggetto di diversi progetti di rilancio anche con altra destinazione è finita nel degrado finora dalle pareti si erano staccati soltanto calcinacci questa volta il grosso blocco di cemento ha rischiato di causare una strage in corso anche accertamenti da parte dei carabinieri che sentiranno le ragazze coinvolte per ricostruire con assoluta certezza l'accaduto a Catanzaro la Guardia di Finanza ha scoperto una frode sui crediti di imposta Covid tra le misure interdittive sequestrati beni per circa 3 milioni e mezzo di euro Sono in tutto 9 le persone indagate per un presunto e illecito sfruttamento dei vantaggi fiscali previsti per l'attuazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 i finanziari del Comando Provinciale di Catanzaro con il coordinamento della Procura hanno eseguito tre misure interdittive della durata di un anno emesse dal GIP nei confronti di tre soggetti due imprenditori e un commercialista accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati tributari e di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni per i due imprenditori è stata disposta l'interdizione dell'attività imprenditoriale mentre per il professionista è il divieto temporaneo di svolgere l'attività contestualmente è stato eseguito un sequestro preventivo di oltre 2 milioni di euro corrispondenti al valore dei crediti di imposta ipotizzati come inesistenti e di ulteriore 765 mila euro quale illecito profitto dei reati contestati è stato ritrovato a Crotone il giovane 17enne di cui domenica scorsa si erano perse le tracce alla mezzia terme il giovane in buone condizioni di salute è stato individuato dai carabinieri la famiglia nelle scorse ore aveva lanciato un appello sui social network e adesso all'Università della Calabria dove si è tenuto il seminario sull'impatto dell'intelligenza artificiale sui media e sul mondo dello spettacolo tanti gli spunti di analisi e di riflessione su questa tecnologia che sta cambiando le nostre vite l'intelligenza artificiale è un'opportunità o un ostacolo alla creatività? questa evoluta tecnologia informatica può relegare gli esseri umani o un'alleata offerta ad ognuno per stare al passo con i tempi? domande e dubbi che serpeggiano da parecchio che sembrano considerare l'intelligenza artificiale come qualcosa che ancora non sta modificando la nostra esistenza in effetti sappiamo che così non è ma con quali ripercussioni? e nello specifico qual è l'impatto della I sui media e sul mondo dello spettacolo? riflessione e risposta in tal senso sono emersa dal seminario all'Università della Calabria coordinato dal professor Giovanni Battista Trebbisacce c'è una sostanziale differenza tra creatività e intelligenza generativa parliamo dell'applicazione di questi strumenti al mondo dell'editoria dei media della pubblicità a un mondo in cui all'inizio soprattutto ci fu tanta paura sostituiranno gli uomini non avremo più gli attori non avremo più i registi beh le cose stanno andando un po' diversamente ma bisogna capire come trasformare questo rischio in un grande beneficio in un grande motore per uno sviluppo concreto in qualcosa che aiuti le persone e la società quindi se artisti, sceneggiatore e registi sviluppano qualcosa di nuovo la I rimescola statisticamente qualcosa che esiste già noi adesso dobbiamo soltanto come dire capire quali sono le cose da vigilare le cose da controllare le cose per mettere a riparo eticamente tutto quello che l'intelligenza artificiale può fare dietro l'intelligenza artificiale ci deve essere sempre qualche uomo un uomo che ha un cuore che gli batte e che eticamente gli fa preparare un algoritmo che non distrugge ma che crea e come proporla ai giovani? raccontare a loro che queste cose sono sempre esistite qualche volta le ha pensate una bella testa qualche volta le ha pensate un bel cervellone qualche volta le due cose si devono combinare per fare qualcosa di meglio nella giornata mondiale del libro la regione Calabria annuncia gli scrittori calabresi del novecento si studieranno a scuola l'iniziativa che ha visto il coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale è stata presentata a Catanzaro la letteratura calabrese si studierà a scuola sceglie la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore la regione Calabria per sottoscrivere un protocollo di intesa con l'ufficio scolastico regionale e di fatto dare la possibilità agli studenti delle scuole di primo e secondo grado di conoscere gli scrittori della loro terra è un risultato significativo perché questo significa non soltanto sensibilizzare la lettura significa aiutare i ragazzi a scoprire le loro radici fortemente identitarie significa acquisire quella consapevolezza che la Calabria ha una letteratura calabrese che ci permette di affermarci da protagonisti in uno scenario nazionale perché abbiamo una letteratura che non vogliamo soltanto restringere a livello locale ma vogliamo sempre di più affermarla a livello nazionale i nostri scrittori che evidenziano tutte le caratteristiche del nostro territorio ma sono una ricchezza immateriale che si è prodotta negli anni è un vero patrimonio per la nostra regione ma è un patrimonio anche perché ci proiettano verso il futuro in realtà abbiamo compreso che se non si capisce da dove si parte quali sono le nostre radici ovviamente non sappiamo nemmeno qual è il percorso da indicare soprattutto ai nostri ragazzi e questi diciamo esponenti della letteratura calabrese hanno una rilevanza amano la propria terra sono orgogliosamente calabresi però lucidi consapevoli analizzano le criticità però con una visione positiva l'incontro l'incontro a cui ha preso parte anche il vicepresidente del consiglio regionale Filippo Mancuso è stata l'occasione per presentare il volume Terzo Regno parole come Pietre e Luci opera editoriale ideata per promuovere la lettura di autori come Corrado Alvaro Saverio Strati Saverio Montalto Francesco Perri e Mario Lacava attraverso tre differenti narrazioni brevi saggi aforismi e fotografie Inaugurata a Cosenza Casa Amelia una struttura dell'AIL che ospiterà pazienti ematologici e familiari che devono sottoporsi a visitoterapie un presidio importante al servizio della popolazione l'associazione adesso concentrerà i suoi sforzi sul progetto di assistenza domiciliare Casa Amelia apre le porte grazie alla generosità di tanti che l'AIL ha trasformato in un servizio a supporto dei pazienti affetti da patologie ematologiche e alle loro famiglie Casa Amelia è una casa che accoglie i nostri pazienti ematologici durante il loro periodo di cura e quindi diciamo evita anche l'ospedalizzazione per cui si fermano in questa casa per il periodo necessario che può variare dai 7 ai 21 giorni e possono usufruire quindi degli spazi e sentirsi come a casa loro in maniera completamente gratuita grazie ai volontari ai donatori a tutti quelli che sostengono l'AIL la struttura cosentina adesso è proprietà dell'associazione composta da tre stanze da letto una sala comune la cucina due servizi igienici e un ampio terrazzo è poco distante dall'ospedale annunziata il compito il compito dell'AIL è soprattutto aiutare i medici nella ricerca aiutarli nella ricerca e grazie alla ricerca oggi la malattia leucemica non è più una condanna a morte ma oltre il 70% delle patologie leucemiche oggi hanno risultato e questo grazie ai medici grazie alle istituzioni e grazie soprattutto alla società civile è un luogo accogliente che diventerà un punto di riferimento per chi deve sottoporsi a visite o terapie ma non necessita di ospedalizzazione l'AIL tra le sue missioni ha quella di affiancare i medici nella ricerca e nella gestione dei pazienti un obiettivo raggiunto stimola un'associazione attiva come l'AIL a proseguire il proprio impegno il prossimo passo sarà quello di organizzare un servizio di assistenza domiciliare ho incrociato prima il nostro commissario straordinario De Salazar chiederemo assolutamente l'assistenza domiciliare che è l'unico pezzo che manca alla nostra sezione AIL di Cosenza è un servizio delicatissimo e molto importante per i nostri pazienti quindi sarà il passo successivo Siamo adesso alla pagina sportiva parliamo di calcio la gara tra Cosenza e Bari in programma sabato prossimo al San Vito Marulla metterà a confronto numerosi ex che hanno militato nelle due compagini Ed è tutto grazie come sempre per essere rimasti con noi vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti